Allora, diciamo che il mio interesse per l'artigianato di fondo è sempre stato lì, perché da bambini comunque si andava alla fiera, poi ho avuto mio fratello che faceva la fiera, mio marito, quindi c'era questa fiera di Sant'Orso di fondo che ci accompagnava tutti gli anni. Lavanneria ha un fascino particolare perché è questa possibilità che dà la natura di creare dei contenitori che possono essere più o meno belli, più o meno utili, ma è proprio questo fascino di tutto quello che la natura ci dà e che dà la possibilità di essere intrecciato. E questa è una cosa che mi affascina molto perché dietro alla lavanneria c'è tutto il discorso del recuperare il materiale, che per me è importante proprio farlo a livello della natura, quindi seguire il ritmo della natura, quindi si va a raccogliere quando le piante vanno in sonno, si va a raccogliere quando la luna cala, cioè c'è tutto un rispetto per quello che la natura ci dà. Grazie Grazie Grazie